un saluto dalla redazione del gr asi in studio marco paganelli ci prepariamo a chiedere il blocco di tutte le attività e della mobilità dalle ore 23 di questo fine settimana lo ha riferito oggi il governatore della campagna vincenzo de luca annunciando così l'inizio del look down notturno in tutta la regione a partire da venerdì a causa del forte aumento del numero dei contagi da coronavirus la meta è una unione europea più inclusiva e più efficace al centro ci devono essere i cittadini europei lo ha detto nell'ultime ore il ministro degli esteri luigi di maio e al diciassettesimo foro di dialogo italia spagna a proposito della conferenza che si svolgerà prossimamente a roma sul futuro del vecchio continente giornata positiva piazza affari l'indice fuzzimib della borsa di milano segnava l'ore 13 31 di oggi un rialzo dello 0,57 per cento a 19.485 punti e per il momento è tutto grazie per l'ascolto ci risentiamo nel prossimo appuntamento delle gr asi grazie a tutti